Essere chiesa vuol dire essere nelle mani di Dio, che ci aspetta, ci accarezza, ci perdona e ci fa sentire amati. Lo ha detto Papa Francesco inaugurando un nuovo ciclo di catechesi dedicata alla sposa di Cristo. Davanti alle migliaia di persone radunate in piazza San Pietro per l'appuntamento del mercoledì, il Pontefice ha precisato che l'amore di Dio precede tutto, come il fiore di mandorlo che per primo fiorisce in primavera, e che il Signore aspetta sempre, e paziente, soprattutto i peccatori che riconoscono i propri limiti. La storia della chiesa dunque è lunga e si compone di tante pagine variegate, ma sin dall'inizio con Abramo si evince che Dio sceglie un popolo che porta la sua benedizione, un popolo che fa crescere e che educa come un padre con il figlio. La chiesa è la storia di un popolo in cammino, un popolo che ha la vocazione di benedire Dio e le persone. Sono parte della chiesa, ma la chiesa siamo tutti, non restringerla ai sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano, queste sono parti della chiesa, ma la chiesa siamo tutti, tutti famiglia della madre. La chiesa è una realtà molto più ampia, che si apre a tutta l'umanità e che non nasce in un laboratorio. La chiesa non è nata in laboratorio, non è nata improvvisamente, è fondata da Gesù, ma è un popolo con una storia lunga alle spalle.